CPS Hotels è nata da Uggento, in provincia di Lecce, nel 1990. Nel 2008 abbiamo costruito Riva Marina Resort, da allora in poi ogni anno abbiamo acquisito due o tre nuove strutture, fino ad arrivare ai giorni d'oggi che abbiamo 12 strutture turistiche, 2.367 camere, 36 sale convegni, fattorato complessivo del 2019 36 milioni. Grazie a Cassa Depositi e Prestiti noi abbiamo sottoscritto il Basket Bond Puglia per fare degli investimenti. Stiamo ristrutturando l'hotel Porto Giardino, stiamo facendo un altro investimento in relais masseria Lecesine, un ampliamento di 50-60 camere di un'antica masseria. Il ruolo di CDP è importantissimo per le imprese italiane perché può aiutare le imprese più piccole a crescere e può aiutare le aziende italiane più grandi ad essere ancora più competitive sui mercati internazionali. Grazie a tutti! Grazie a tutti!